Il primo ostacolo fondamentale è la ricerca delle persone, quindi la scelta dei collaboratori è fondamentale e servono persone motivate e chiaramente flessibili, nel senso che un'attività di start-up non ha delle caratteristiche specifiche per quanto riguarda le attività lavorative. Può capitare di sviluppare nel nostro ambito attività nel lato hardware piuttosto che il giorno dopo andare a sviluppare delle cose a punto di vista software. La seconda problematica è la difficoltà di realizzare dei dispositivi hardware a dei costi contenuti, una cosa fondamentale per approcciare il mercato. Il terzo punto è di sicuro scontrarsi dal punto di vista burocratico, quindi ci sono delle strutture che supportano ma le attività e le imprese di start-up devono per forza faticare a partire in un ambito che molto spesso non è gestibile dal piccolo.